Prima di iniziare per favore iscriviti al canale. Cristiano Ronaldo parla di Messi, siamo stati rivali ma c'è grande rispetto. Escluso dalla lista dei candidati al pallone d'oro, il leggendario campione portoghese si apre sul suo storico rivalità con l'Aionel Messi, affermando, chi ama me non deve odiare Messi, e viceversa. Abbiamo scritto pagine indelebili nella storia del calcio, ma ora la rivalità è svanita. Amici. Ci rispettiamo profondamente, anche se non abbiamo mai condiviso una cena insieme. La rivalità tra questi due giganti del calcio è stata innegabile e ha alimentato la passione dei tifosi negli ultimi due decenni. Messi o Cristiano Ronaldo, una scelta che ha diviso il mondo del calcio. Tuttavia, ora questa rivalità si è trasformata in un rispetto reciproco, e se definire il loro rapporto «amicizia» può sembrare un passo azzardato, è Cristiano Ronaldo che si tende la mano al suo avversario di lunga data. In un'intervista, Ronaldo riflette sul rapporto con Messi, la nostra rivalità era una cosa positiva. Ai tifosi piaceva. «Ma anche ora, chi ama Cristiano Ronaldo non deve odiare Messi, e viceversa». Queste parole sono pronunciate nel giorno in cui Cristiano Ronaldo, per la prima volta dal 2004, non è incluso tra i candidati per il pallone d'oro. «Questo premio, che ha vinto ben cinque volte, è stato sollevato più spesso solo da Messi, sette volte, con una straordinaria alternanza tra i due dal 2008 al 2021. Siamo entrambi buoni, o addirittura molto buoni, calciatori», afferma Ronaldo con modestia. «Abbiamo fatto la storia del calcio e continuiamo a farlo, siamo rispettati in tutto il mondo, e questo è di fondamentale importanza». Cristiano Ronaldo aggiunge, «Io seguo la mia strada, e lui la sua, anche se ora entrambi non giochiamo più in Europa. Dalle prestazioni che ho visto, Leo sta andando bene, e anch'io ho ottenuto risultati positivi ultimamente. Continuiamo ad essere giocatori di alto livello, ma la rivalità è ormai un capitolo chiuso. Non è più così. Abbiamo condiviso i più grandi palcoscenici per 15 anni e, se non posso dire che siamo diventati amici, perché non abbiamo mai condiviso una cena insieme, siamo sicuramente estremamente rispettosi l'uno dell'altro».